Se il tuo sogno è di far parte di un'azienda moderna e innovativa, fai semplicemente quello che ami di più, mentre ricevi guadagni interessanti. Tutto questo è per te. Nella vita tutto ha un inizio e nasce con il miglior seme, il potenziale delle persone che desiderano crescere. Pertanto, convinti che ogni donna sia un seme che spera di fiorire, ti presentiamo l'opportunità Unique, un modello di business di successo che è facile da amare, vivere e condividere. Vuoi saperne di più? Ti mostreremo 5 ottimi motivi per far parte della nostra famiglia. 1. Seminiamo nel cuore di ogni persona la mission di migliorare, potenziare, rafforzare e aumentare l'autostima delle donne di tutto il mondo. Quindi per noi sei importante. Cerchiamo di farti sentire bella dentro e fuori e di offrirti una crescita personale ed economica. 2. A partire dalla nostra nascita nel 2012, abbiamo creduto nella vision di un mondo dove le donne di tutte le età si sentono belle, intelligenti e sicure. Ecco perché oggi abbiamo superato i confini, le culture e le lingue crescendo così velocemente che attualmente abbiamo più di un milione di consulenti. Sai a cosa è dovuto? Alla nostra forza. Dal momento che siamo presenti in 12 paesi, appartenenti a diverse associazioni di vendita diretta del mondo. E oggi facciamo parte della grande multinazionale Coti, una delle più grandi aziende di bellezza del pianeta, il miglior sostegno per continuare a crescere. 3. Che cosa ci ha portati a questa straordinaria crescita? Noi seminiamo in un terreno fertile perché i nostri prodotti si distinguono per essere prestigiosi e di alta qualità, sviluppati con gli standard europei e realizzati con ingredienti che riuniscono il meglio della natura, dell'amore e della scienza. E inoltre, hai sempre prodotti all'avanguardia, alla moda e con un'ampia gamma di colori. 4. La nostra opportunità è la dimensione dei tuoi sogni e non al limite. Con Unique puoi avere il tuo business, ottenere guadagni interessanti e approfittare del tuo tempo. Dal momento che il nostro modello è compatibile con la tua vita quotidiana. Se sei uno studente, ti dedichi alla casa o hai un lavoro, con Unique hai sempre il tempo di fare quello che ti piace. Sai perché? La tua attività è portatile, va con te ovunque e in qualsiasi momento. Perché fai tutto dal tuo ufficio virtuale, dalla tua pagina web personalizzata, molto facile da usare e condividere. Sarai orgogliosa di utilizzare il principale salone di bellezza online e mostrare un'immagine completamente professionale. Unique ha rivoluzionato il modo in cui le donne acquistano e fanno affari, poiché è possibile trasformare tutti i tuoi contatti di social network preferiti in un'opportunità per condividere, crescere e vincere. Dal tuo computer, tablet o cellulare puoi organizzare riunioni virtuali, accumulare guadagni e ottenere sconti su prodotti articoli. E non è tutto, perché mentre stai facendo altre cose, i tuoi clienti acquistano direttamente sul tuo sito web. Così ricevi il tuo pagamento tre ore dopo la vendita. Puoi anche guadagnare provvigioni mensile e consolidare una carriera di successo invitando più persone a far parte di Unique. È inoltre possibile ricevere un bonus auto mensile, partecipare alle convention e guadagnare viaggi incentivo con destinazioni molto attraenti. Tu decidi quanto vuoi guadagnare. Il nostro interessante piano dei compensi ti offre una vasta gamma di possibilità. 5. Siamo un'impresa fondata su valori familiari, rispetto, fiducia e fedeltà. Sulla base di questi valori abbiamo creato la fondazione Unique con la speranza di stimolare la speranza nelle donne che hanno subito un abuso sessuale. Così abbiamo creato legami e gruppi di sostegno dove insegniamo e impariamo a promuovere il senso di appartenenza. Vuoi far parte della nostra famiglia e della nostra causa? Fiorire significa aprire il tuo cuore, espandere i tuoi sogni, dare e avere. Con Unique noi rifioriamo dando agli altri il meglio di noi stessi. Non aspettare più e inizia una nuova avventura oggi con Unique e la tua attività. Ama, condividi, vivi.